Sempre più fitto il calendario delle manifestazioni sportive dell'estate con la corsa che di anno in anno sfoggia sempre nuove gare e appuntamenti per tutti i livelli di preparazione. Fra le altre, con la settima edizione della Camminata delle Foppe, è andata in archivio la sesta edizione del circuito dei retici balzi, uno dei primi nati nel panorama valtellinese. Forse con numeri un po' ridotti nella partecipazione rispetto al passato, complice proprio la concomitanza con altri appuntamenti, ma la partecipazione è stata anche questa volta vivace e convinta. Ciascuno ha il proprio ritmo, chi con il cronometro al polso, chi invece in relax con la famiglia. I numerosi partecipanti hanno dato vita a una giornata da incorniciare, baciata fra le altre cose da un tempo perfetto. Al traguardo soddisfazione in particolare per Francesco Leoni, che con questa vittoria ha consolidato il primato in classifica, aggiudicandosi il circuito edizione 2018, davanti ad un velocissimo Francesco Bergamaschi e ad uno strepitoso Simone Bertini. In campo femminile, primo posto per Elisa Sortini davanti a Gaia Bertolini e all'intramontabile Lucia Moraschinelli, dominatrice e vincitrice dei retici balzi. Per Poggi Ridenti un'altra giornata da incorniciare, nella quale i veri protagonisti sono stati i momenti di socialità, l'ambiente e lo sport, la cultura e le eccellenze del territorio.